L'arte ha una funzione fondamentale ed è quello che indossiamo, è la nostra vita, è quello che respiriamo, è una cosa che è molto più alta di me. Il mio tentativo attraverso il mio gesto è di avvicinarmi all'arte. Per me l'arte è uno dei nomi di Dio. Per me l'arte è uno dei nomi di Dio.